Alfred Lord Tennyson Venite amici che non è tardi per scoprire un nuovo mondo io vi propongo di andare più in là dell'orizzonte e se anche non abbiamo l'energia che in giorni lontani mosse la terra e il cielo siamo ancora gli stessi unica, uguale, tempra di eroici cuori indeboliti forse dal fato ma con ancora la voglia di combattere, di cercare, di trovare e di non cedere